Personalmente non gioisco mai delle difficoltà dei partner, degli alleati nella politica. Penso che sia fondamentale guardare l'obiettivo che è quello di concludere questa esperienza governativa che è stata una bella esperienza e dopo di che si vedrà, nel senso sì, si valuterà il futuro con l'occhio di chi vuole governare e vuole dare ancora risposte ai veneti. Nel frattempo tra i candidati alle primarie del PD volano un po' gli stracci governativi. Io non mi occupo, come sapete, delle vicende di casa altrui. Non l'ho mai fatto per metodo, non solo in questa fase con le primarie del PD, ma anche in altre occasioni. Anche nelle occasioni nelle quali magari i partiti c'erano molto più vicini. Ognuno farà le sue cose e le beruffe in famiglia sono cose di altre, delle quali non mi occupo e non ho nessuna intenzione di occuparmene in futuro.